Mets, ultimo test match di questo precampionato, una buona prova contro un avversario che affronteremo nella prossima Superlega. Ecco, sensazioni a pochi giorni dall'esordio contro Perugia? No, oggi una buona prova con Padova, che comunque giocano sempre bene, lottano, quindi è stato bello tosto per noi. C'è un buon ambiente in campo, ci manca poco e quindi siamo carichi, non vediamo l'ora di giocare. E quanto è stato importante in queste prove amichevoli poi lavorare sull'intesa? Poi sappiamo la squadra è cambiata poco, però comunque è importante trovare subito una buona intesa tra di voi in campo per arrivare bene al debutto. Sì, è stato fondamentale per noi, perché le altre squadre sono molto forti, noi dobbiamo essere anche forti, quindi è stato bello prendere subito il ritmo con queste partite e è stato bello che abbiamo fatto anche bene, quindi siamo pronti.